Carlo Bartoli, il neopresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti oggi in Abruzzo, accompagnato dal sindacato dei giornalisti, ha parlato delle testate locali come una risorsa per la collettività rivolgendosi anche al ruolo della nostra emittente solida e seguita. E' intervenuto poi sull'importanza dell'informazione sulla guerra in Ucraina. Ma io distinguerei tra il comportamento dei colleghi che sono sul fronte, spesso sono dei freelancer, spesso sono sottopagati, spesso, e anche questo è un tema che abbiamo sollevato, non hanno risorse neppure per pagarsi le assicurazioni che fanno un lavoro straordinario. Abbiamo più volte espresso critiche nei confronti dei colleghi per quello che è la rappresentazione, soprattutto per la sovraesposizione dei minori in guerra, per l'esibizione di cadaveri e di altre scene che non serve rappresentate con questa crudezza perché sappiamo la drammaticità e la tragedia che è una guerra. E comunque noi raccomandiamo sempre a tutti i nostri colleghi di ricordare che una guerra non è una partita di Champions League, non c'è un vincitore, sono tutti sconfitti e di ricordare comunque, nel scrivere pezzi, nel fare servizi, di trasmettere questo messaggio soprattutto alle giovani generazioni, di ricordare, come ci dice la nostra Costituzione, che la guerra non è mai uno strumento per risolvere le controversie internazionali, anzi è uno strumento per aggroarle. E quindi la diplomazia, il dialogo comunque rimane l'anima della convivenza tra i popoli. Il Presidente sottolinea l'importanza dell'informazione locale per la collettività. Ma intanto un augurio di buon lavoro, un invito a resistere perché ci vuole veramente tanta passione, tanto spirito di sacrificio sia da parte dei giornalisti, sia da parte degli impiegati, di tutte le figure, sia da parte delle proprietà, a resistere perché voi siete un presidio di libertà e se questi fiammelli si spengono, si impoveriscono le comunità.